E' bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo video sulla serie A Siamo anche io Ah il Bologna Allora ragazzi oggi siamo qua per decretare il vincitore della serie A di quest'anno ai calci di rigore Siete pronti? Sì C'è sbagli e la squadra dopo segna siete fuori Quindi vi conviene non sbagliare Detto questo avremo il mitico portiere più forte di YouTube Italia in porta Antoine Portiere della Roma non va bene hai ragione hai ragione Scusami eh Ragazzi Niente favoreggiamenti per favore No io no no sicuramente no E detto questo ragazzi iniziamo subito con i rigori Non funziona così sul mio canale Magari su Pillassu si E andiamo Ragazzi prima che inizi il video voglio ringraziare ASD Città di Acilia link in descrizione per venire a giocare in questo campo Primo calciare ragazzi Atalanta Si parte in ordine alfabetico Sei pronto? No La responsabilità è Parte Muriel Attenzione Goll Atalanta e poi Bologna ragazzi ci siamo Mi conosce ha già subito qualche gol da parte mia Mi sarà anche piuttosto arrabbiato non sarà affatto Ohhhh Ohhhh Attenzione Attenzione Va beh non si era manco buttato quindi regà Di presunzione Pierino E il Bologna adesso rischia Attenzione ragazzi possiamo avere il primo eliminato Cioè il Bologna Tu sei Isma? Vai con la Cremonese Antoine non voglio retrocedere già Ohhhh Mamma mia Ragazzi ragazzi salutiamo il Bologna Vieni di qua se lo vediamo Bologna Ciao Bologna È stato un piacere È stato un piacere partecipare in questo video ragazzi Quindi Bologna ventesimo posto serie B Perfetto Ciao Attenzione ripartiamo subito C'è l'Empoli Vai pure Empoli Ohhhh Ohhhh Mamma mia Bello Ohhhh Mamma mia oh Qua abbiamo tutti dei rigoristi Attenzione L'Inter È pronto Si accinge a battere questo calcio di rigore E Gabriele E Gabriele non sbaglia Campione d'Italia Campione d'Italia Ah no Da Juventus Chiesa Chiesa L'uomo rotto che adesso è ritornato Provoca Guarda Antoine E parte il tiro Bruttissimo tiro però No no ma aspettavo che non c'è Lazio Goll Primo rigore in promozione Tornan Mamma mia Non sbaglia Monza dai Vai pure Attenzione Pestina Protaggio Vittura Non ha fatto niente E la sbaglia Dai Monza Vieni a farmi compagnia Osiman Wow Vieni Monza Vieni Monza, stiamo insieme, serie B, sei di bala, sei di bala, mamma mia dove l'ha messa? Talernitana, un altro anno in A, forse l'ultimo. Alla Sampdoria, la trovano in A, e la Sampdoria! Anche quest'anno si è allestita la Sampdoria, all'ultimo così, bello come reale. L'aveva quasi intuito eh, e quindi salutiamo anche la Sampdoria, grazie. Tocca alla Spezia, la Spezia, attenzione dove l'ha mandata. Attenzione se il Torino la mette dentro, la Spezia ci saluterà. Mamma mia! Bel rigore! Ciao Spezia, ciao! Fuori anche l'Udinese forse, devi eliminare l'Udinese. Fallo, fallo, fallo per noi. Bella ricorsa! E adesso, nuovo giro, però qua dobbiamo introdurre una difficoltà, vero Samuel? Hai ragione. Scalcia col piede debole! Secondo giro, parte Muriela! Cosa ha fatto il portiere? Purtroppo Lallas ci lascia. Parte Isma, di sinistro! Ah, Antoine, para! Dotto! Tempo lì! Questo è un giro difficile eh! Ragazzi, qua a piede debole male male eh! Attenzione, Gabri può eliminare la Fiorentina! Te faccio il cucchiaio! Mamma mia! Bel rigore! Imparabile! Ragazzi, salutiamo la Fiorentina! Ciao Fiore! Parte la Juventus! Così, la Lazio può eliminare la Juve! Salutiamo la Juve! A casa! La Juve! Ehi! Osimena! Di punta ragazzi! Roma, Roma! Attenzione! Sbaglia anche la Roma! Altra chance! Attenzione! Niente! Parata! Attenzione! Si è salvato per due volte! Cioè, ragazzi, io non capisco questa Salernitana eh! Fai bene a fare così perché... Eliminare il Sassuolo! Ma che cosa ha preso Antoine? Parte Ludinese! E quindi elimina il Toro! Ciao Toro! Ok! Riprendiamo col terzo turno! Oh! Antoine l'aveva presa! Quanto testo là! Ancora ragazzi! Niente! Attenzione! Gli apri e elimina un altro giocatore, un'altra squadra! Vieni qua Eppoli! Ciao Eppoli! Ciao Lazio! Attenzione! Uh! Per rigore! Che brutto rigore! Attenzione! Hai Victor! Quanto ho combinato! Victor Rosimane! Il Napoli! No! Sì! Vuoi eliminare Napoli! Mamma mia! Per rigore e quindi... Ciao Napoli! Mamma mia! Cioè quest'anno vinco lo Scudetto raga! Vedete che ci pensa lui eh! Mamma mia! E quindi... Ciao Sossuolo! Ciao! Ok ragazzi siamo rimasti in otto squadre e quindi adesso... Rigore normale, secco, se sbagli sei eliminato! Avete capito? Di piede debole ragazzi! L'Atalanta! Paglia! E quindi... Ciao Atalanta! Ciao Palomino, sono con te Palomino! Viede debole! Attenzione! La Cremonese c'è! C'è raga! L'Inter! Oh! Facile gol ha fatto! Alla Lukaku contro il Milan! Ma che giuro ha fatto! In Coppa Italia l'anno scorso! Andiamo ad aprire il bagaglio! Passambo il dimancino! Bruttissimo rigore! Però la qualità c'è! Roma! La Roma c'è! Vediamo se stavolta... Paratona! Totò di Natale! Ragazzi siamo rimasti in sei squadre! Cambiamo il tiro! Dobbiamo tirare di tacco! Parte la Cremonese! Di tacco! Ah! E non c'è! E quindi Cremonese a casa! Salutiamo la Cremonese! Attenzione Gnabri! Qua! No! Non vale! Non vale! Anche Gnabri sbaglia! Quindi salutiamo l'Inter! Tanto adesso sbagliano tutti e si rifà quindi! Pirla Lazio contro il portiere romanista! Non va! Non va! Attenzione rimangono in tre! Il principe romano! Oh! 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 Mamma mia! C'è gol! Se l'Udinese sbaglia ha vinto la Roma! Ok! Quindi tensione alle stelle! Udinese ci sei? Ok! Batti così! Ok! Parti pure! Attenzione! Attenzione! Finalissima inaspettata tra Roma e Udinese! Adesso finiscono le difficoltà visto che siamo in finale! Tiro normale! Primo che sbaglia ha perso! Francesco Totti! Oh! Rigore che può essere decisivo! Oh! 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 Ragazzi questo video termina qua! Oh! 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 Trovate un commento qua sotto! E noi ci vediamo di un altro prossimo bellissimo video! Come questo stemma! Ciao! Forza Bologna regà! Forza Bologna!